Ciao a tutti ragazzi, sono il Cilberaga, sono qui oggi per la prima volta con qualcosa di diverso che se vedo che vi piace posso portare successivamente Penso di farlo una volta a settimana perché io il metodo supremo lo faccio una volta a settimana E per chi non sapesse in cosa consiste il metodo supremo ve lo spiego subito In pratica si va su un altro account e si fanno le sfide avanzate Perché le sfide avanzate offrono dei buonissimi pacchetti Quindi passando via, tipo io mi passo sempre 20.000 crediti, mi faccio le sfide e apro sempre i pacchetti Questa volta qua io farò le sfide e ogni volta che aprirò un pacchetto vi faccio vedere come ho sviluppato la sfida Quindi se vi servono delle squadre già fatte per utilizzare, io con queste qua spendo veramente poco Quindi se volete provare a farle con le mie fatele, io ve le faccio passare subito qua veloci Allora, ve le faccio vedere mentre parlo Considerate il fatto che io poi aprirò un pacchetto alla volta Infatti devo fare le sfide una alla volta perché non posso passarmi 100k perché se no mi bannano E quindi ve le faccio vedere così Io apro ogni pacchetto poi stop la registrazione ogni volta Fatemi sapere, la facciamo così raga, se questo video raggiunge i 65 likes Io ve le farò di nuovo sperando, sperando raga di trovare qualcuno di veramente buono nei pacchetti Quindi allora raga consegniamo la rosa e ne aprirci il pacchetto, il pacchetto che è un pacchetto oro maxi che non è niente di assolutamente bello però Poi ci prendiamo questi due pacchetti qua che sono buoni e poi alla fine ci sono dei altri ottimi pacchetti Andiamo subito ad aprircelo, allora raga speriamo di trovare qualcosa di buono Non vi assicuro niente perché in questi pacchetti qua, spesso e volentieri ho sempre trovato Ho trovato tipo Alabo, ho trovato Busquets e Curtuale nel stesso pacchetto Ho trovato William Ife Quindi in questi pacchetti qua troveremo qualcosa raga ve lo prometto Primo pacchetto Vediamo un po'? Niente bandierine Quindi guardiamo un attimo Poi alla fine vi farò vedere anche alla fine di tutto il mezzo superiore quanti credit mi sarò fatti Cicciretti raga, cicciretti Che tra l'altro se volete potete provare a prenderne perché si alzerà il prezzo secondo me Comunque boh Io questi qua li mando tutti in i trasferimenti Questo qua in i trasferimenti Nulla raga per voi ci vi chiamo al prossimo pacchetto Raga per sbaglio ho completato questa qua anziché questa e non so me ne sono reso conto dopo Quindi andiamo a aprirci questo È un buon pacchetto perché un pacchetto di giocatori oro prime è un buon pacchetto Aspetta, devo farvi vedere un attimo i giocatori Quindi areola E li faccio vedere tutti veloci Vi faccio passare due volte Tanto basta che stoppiate il video E voilà Allora raga posso inviarvela E vedere un po' Se poi magari non siete riusciti a leggere basta che mi iscriviate su telegram Trovate il link in descrizione Io ve le mando subito, ci metto due secondi Allora raga andiamo a aprirci il pacchetto Che è un buon pacchetto Allora il negozio Vediamo un po' raga Speriamo di trovare Uuuuh Uuuuh Sento puzza di totina Pec Sento puzza di totina Pec Vediamo un po' Uff Speriamo bandierine almeno raga Che palle Nemmeno bandierine cazzo Nemmeno bandierine Che schifo Brasile DC Porto Che cazzo è sto figlio Puttine Nemmeno bandierine male Nemmeno bandierine malissimo Raga io questi qua Li mando tutti Alla cosa ci pichiamo Al prossimo pacchetto Bella Raga Adesso ho completato i sette sospetti Quindi la seconda Però in realtà Sarebbe la terza Perché io ve l'ho fatti in ordine Sbagliato Perché prima ho fatto quella di prima Comunque Mi sono dimenticato di dirvi Che quella di prima L'ho fatta Semplicemente con Un DC Che va a fedeltà Perché ero partito Con la squadra a Francia All'inizio del tutorial Però se non avete Quei difensori Lì basta che ne mettete Un altro Di una Una Qualsiasi lega Che non sia di quelle lì E poi cambiate un po' di ruoli E riuscite a farla comunque Quindi raga Ora vi faccio vedere questi E poi Andiamo a completare Cioè nel senso Andiamo a consegnarla E poi Andiamo a ritirare il pacchettino Che è un bel pacchettino Però sicuramente Non troveremo niente Perché raga Sto registrando Quindi non troverò mai Niente Ve lo posso assicurare Quindi ve lo faccio vedere un attimo Ok a posto La invio raga E facciamo Affasciamo i devasti raga Spero almeno Di trovare bandierina raga Trovo che ultimamente Si trovano meno bandierine Rispetto agli inizi Per quanto riguarda Il metodo supremo Pacchettoro premium maxi Non dovrebbe essere male raga Speriamo di trovare qualcosina Almeno bandierina Non dico Cristiano Ronaldo Ma almeno bandierina Dai raga Hashtag bandierina per gilbe Bandierina Ma cazzo raga Ma non ne troviamo una Bellince Siamo così sfigati Almeno dammi martial Cioè raga Samedov Samedov Va bene Raga mi sa che Poi consegno l'altra E ci vi chiamo dopo Adesso questi qua Li metto nei trasferimenti No in realtà Mi li guardo bene E poi ve li metto nei trasferimenti Raga ci vi chiamo Al prossimo Pack Da aprire Bella Ok raga Finalmente ho finito anche questa Questo qua purtroppo L'ho dovuto fare io con la fedeltà Perché non avevo di giocatori Che mi potessero far fare La sfida Senza fedeltà Comunque questi qua Giocatori ve li faccio vedere Così se ne avete uno Magari di questi Potete farla Senza Senza dover fare Le partite per la fedeltà Io vi faccio vedere un attimo Vi faccio scorrere un attimo Vi faccio scorrere veloci Tanto poi basta che Stoppate il video Allora raga Ora apriamo per fortuna Due pacchetti Sick Perché apriamo due pacchetti Sick Che sono il mega Il pacchetto mega Il pacchetto mega raro Mi pare Non lo so come si chiami Comunque Mega pacchetto raro Ok avevo ragione Dovrebbero Dobbiamo trovare almeno Se non troviamo le bandierine qua Vuol dire che proprio FIFA Non ce le vuole far trovare Io spero di trovarle Non dico Cristiano Ronaldo Come ho già detto prima Ma almeno Almeno Un 84 Più Raga almeno 84 Più Io devi partire col pacchetto Mega Allora raga Speriamo almeno le bandierine Perché se no Mi incazzo Ok bandierine Dimmi che è qualcosa di sick Raga Ditemi qualcosa di sick Spagna Spagna non è mai niente di buono Non ci credo raga Ma cale on Cale On Cazzo Ma come faccio A sprecare una bandierina Con cale on Cioè incredibile Tutto il resto male Malissimo Io questa roba qua Me la mando Al club Alle trasferimenti Raga ora apriamo il secondo pacchetto Se non trovo bandierine qua Io mi incazzo come la bestia raga Bandierine Se non trovo bandierine qua Vuol dire che Puttana maia lazza Non ce lo vuole far trovare FIFA Ma io ci credo Io ci credo nel Back to back bandierina raga Back to back bandierina Cioè raga Io devo picchiare qualcuno Io devo picchiare qualcuno Raga Ma chi è? Ma chi è questo? Securdsson Cioè Mamma mia raga Fa malissimo al cuore Fa malissimo al cuore Vedere Securdsson Cioè Io non capisco Che cosa c'ha in testa FIFA Per farmi trovare Queste persone qua Che palle raga Che palle Raga Poi Visto che abbiamo finito questo Poi apriamo I prossimi pacchetti Li faccio vedere Perché sono veramente Veramente sick Sperando di trovare Qualcosa di meglio di questo Raga Ci richiamo ai prossimi pacchetti Che raga Completato anche intermedio Vi faccio vedere brevemente I giocatori che ho utilizzato E poi andiamo a sbustare Che raga Sono stanco di non trovare nessuno Ragazzi Mi fa innervosire Non trovare nessuno Anche perché a fare le stesse video qua Ci metti un botto Ma solo stavolta qua Che sto registrando Perché casualmente Quando devo registrare Non troverò mai nessuno Tutte le volte scorse L'ho fatto anche Tre volte L'ho fatto trovato Alaba Ho trovato Busquets E Crutuale Nello stesso pacchetto Poi ho trovato William If Quagliarella If Ce ne ho trovati abbastanza tanti Stavolta Nessuno Va Ditemi che è un caso Qua abbiamo un pacchetto Oro Rari Che male E 1500 credit Cioè Vedete Non ci sto nemmeno guadagnando Tanto Cazzo Se non trovo almeno Una bandiera Buona qua Mi sa che Stavolta Non si guadagna mica Rega Allora raga Contiene 12 oggetti Comprisci 12 oro Tirare Vediamo se troviamo qualcuno Almeno bandierina Rega Se non trovo bandierina Mi cazzo Come la bestia Cioè Ma raga Ma è incredibile Però È incredibile Brasile TS Ma chi è Ma chi è Ma chi è Tejes Tejes Dove Tejes Quando Ma Tejes Perché Niente Tejes Stai raga Che nervoso Che palle Rega Io se non trovo I prossimi I prossimi due Sono con fedeltà Quindi ci metto Almeno 15 minuti A sfida Se non trovo Raga Una bandierina In tutte e due Perché voglio trovare Tutte e due le bandierina Io mi incazzo Come una bestia Ci vediamo Tra poco Ok raga Abbiamo completato Anche quella difficile Questa qua Era da fare Ovviamente Con la fedeltà Vi faccio vedere Brevemente La squadra Questi qua Sono tutti i giocatori Che ho utilizzato Non costavano tanto Questa sfida qua Appunto Non costa tanto Nulla raga Sono un po' scoraggiato Perché Non sto trovando niente Spero almeno Di trovare bandierine qua Perché se no raga Veramente Mi cadono le balle Se non trovo niente Cioè veramente Perché perdi Talmente tanto tempo A fare questa roba qua Che se non trovi nessuno Fa veramente ridere Raga Sono scoraggiato Spero di trovare almeno Bandierine qua Se non trovo bandierine qua Raga Veramente Mi passa la voglia Di farlo Oh dai Dai Fammelo uscire buono Fammelo uscire buono Ti prego Godin Godin Porca Puttana Che merda Vaffanculo Almeno Godin Valeva 30.000 credit Invece Se sto gay Non vale niente Ma cosa Perché fanno uscire I fuori Artificio De Porca Bastarda Raga Fa malissimo Fa malissimo Al cuore Cioè Veramente Mi ha fatto Veramente male Al cuore Raga E' incredibile In Cre Ti Pi Le Basta Raga Cioè perché Al prossimo Cosa se non trovo Niente Nemmeno nel prossimo Io ammazzo qualcuno Raga Ammazzo qualcuno Raga ho finito Ho finalmente finito Anche questa qua Ve la faccio vedere brevemente Perché voglio aprire il pacchetto Raga Spero di trovare qualcuno Perché se no Raga La yay È Finita È Finita Io ammazzo Tutti Raga Ammazzo Tutti Tutti Dovete morire Tutti Ora ovviamente Questa qua richiedeva fedeltà Perché le ultime due Di Cose di Campionati Nazionalità Misteri Richiedono sempre Fedeltà Non c'è nessun modo Per farle senza fedeltà Allora Raga 12.000 Crediti Bene E ora Andiamo a aprirci questo pacchetto Raga Mi sto Mi sto già in nervoso Perché so già che non troverò nessuno Però Raga Contiene 12 giocatori Tutti oro e rari Io dico che trovo almeno 85 più Non so voi Raga Io ci credo Se Se Non trovo Lavagna Io ammazzo qualcuno Raga Lavagna Io ci credo Io ci credo If Chi cazzo è Ma chi cazzo è Chi cazzo è Ma chi cazzo è Chi cazzo Chi cazzo è sto qua Ma chi minchia è Raga Ma chi l'ha creato questo Ma dove giochi Ma Per Che Esisti C'è Un team of the Team of the week Assurdo E trovo Buanga Magis Perché Perché Dimmi almeno che c'è qualcun altro Falcao Vabbè Falcao Patricio Nani Qualcosina valgono Nel senso Almeno Sono 83 Quindi dovrebbero valere Qualcosina Però raga Cioè È assurdo È assurdo Che non trovo Mai Niente Mai Niente Raga Assurdo Assurdo Raga poi Ci richiamo poi Quando apro i prossimi pacchetti Ok raga Abbiamo completato anche questa Vi faccio vedere brevemente I giocatori E poi Andiamo subito A Sbustare Perché Raga Ho visto che comunque Ci siamo già fatti Tipo una trentina di k Quindi va bene Però Preferirei Per il tempo che ho perso Preferirei Arrivare almeno 60 70k Almeno Solitamente arrivavo almeno a 100.000 Partendo da 20k Però Stavolta Siamo sfortunati Quindi non è che si può avere tutto Quindi allora Qua rimuovo tutto Questo qua Lo scarto E andiamo ad aprirci Il prossimo pacchetto Che non è un pacchetto bello Quindi probabilmente Non troveremo niente Però Allora Un pacchetto giocatori oro Ah no in realtà è buono Come pacchetto Quindi raga Speriamo di trovare qualcuno Allora Vediamo un po' Raga Almeno bandierina Nemmeno bandierina Dammi almeno Ehm Non lo so Un bappé No un bappé e bandierina Bene Vabbè I gnocchi williams 900 crediti Però è baggato Lol Allora raga Rugani Sciurle Quindi qua non c'è nessuno In realtà che ci Oh Questo qua raga Shraf è fortissimo In real life Strafo Ehm Raga Direi che possiamo Beccarci tra poco Con il nuovo pacchetto Bella Ok raga abbiamo finito Come potete vedere Abbiamo finito anche questa Ehm Come potete vedere anche Questo qua È un pacchetto di merda Perché il pacchetto oro Prime Non è sick Ehm Però noi l'apriamo Perché tanto sono da aprire Quindi Ehm Raga vi faccio vedere brevemente La squadra Voi stoppate quando Vi serve il giocatore Ehm Nulla raga Lo sveglascono velocissimo Così riuscite a stoppare Bella Eh raga Possiamo consegnarla Sperando di trovare qualcuno Però tanto in questo pacchetto qua Ho già il cuore in pace Non troveremo sicuramente niente Quindi metto le mani avanti Ma Tanto alla fine È così Allora raga Apriamo il pacchetto Questo è una bandirine Sicuro Ma sicuro Raga sicuro Infatti Cioè nemmeno Roraro raga Non lo guardo nemmeno Perché non voglio sapere cos'è Ma andiamo solo al club Nateia raga Nateia Ripperone Ragazzi Pichiamo al prossimo pacchetto Bella Ok ragazzuole Abbiamo finito Anche questa Vi faccio vedere brevemente I giocatori Così potete copiarla Nel caso in cui Voleste fare la sfida Nulla raga Il pacchetto è buono Perché il pacchetto giocatori Oro prime È buono Non è nulla di eccezionale Però Potremmo effettivamente Trovare qualcuno Se fossimo un pelo Sculati Lo sapete che io non lo sono Quindi non troveremo nessuno Però Raga La speranza è l'ultima A morire Raga Io ce credo Ce credo Raga Ce credo If in a pack Sono if in a pack Dai raga Ciao Possiamo fare Raga Basta raga Basta Mi prego Basta Basta Fernandinho Get Cancer Get Cancer Raga Raga Io Sapete cosa vi dico Andiamo a farci l'ultimo E poi così Apriamo i due pacchetti ultimi Che sono molto molto buoni Nulla raga Ci vediamo i prossimi Pacchettini Bella Ok raga Ho finito Anche questo Vi faccio vedere Velocissimamente La squadra Così poi Andiamo ad aprire Il pacchetto I due pacchetti Perché ce ne sono due Visto che abbiamo completato Sia questa E poi sia La sfida generale Quindi abbiamo due pacchetti Sono due pacchetti Veramente Veramente buoni Allora raga Andiamo subito Ad aprirli Dovrebbero essere Due buonissimi pacchetti Apriamo prima Il pacchetto mega Speriamo di trovare qualcosa Speriamo di trovare qualcosa Speriamo di trovare qualcosa Almeno Almeno Bandierina Dai 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 Escimelo Francia ATT Cioè raga Incredibile È incredibile Ragazzi È incredibile Cioè è incredibile Io non parlo più raga Non parlo più Perché se no mi nervosisco solo Io non ci voglio credere Ma perché non mi ha dato Griezmann raga Perché non mi ha dato Griezmann Perché non mi ha dato Griezmann Perché non mi ha dato Griezmann Vorrei capire quello Vorrei capire quello Apriamo l'ultimo pacchetto raga Se non è Bandierina Io ammazzo qualcuno Raga Ma dammi un 85 più Non ti chiedo tanto Cioè il massimo mi ha dato 83 Io ammazzo qualcuno Che balle raga Che balle raga Nulla raga Il nostro pac opening È finito Qua Non abbiamo dato niente Come il solito Perché non troviamo mai Niente E sapete cosa vi dico Poi magari Alla fine Vi lascio L'ultima parte In cui vi dico Quanto ho finalmente Trovato Vendendo tutti Quindi nulla raga Ci vi chiamo al prossimo Video Ciao 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 Grazie a tutti.